Bale, sono gli ultimi santi di gara, cercano il gol. Occhio a Bale, attenzione! Due minuti di... Attenzione, incredibile! È calcio di rigore! Sì, è calcio di rigore! Partita che può riaprirsi in questo finale. Hanno un'occasione d'oro per pareggiarla a pochi minuti dal termine. Vediamo se la sfrutteranno. Grazie!